Sabato, tre partite. Lecce-Empoli 1-0 per giunta al 89. Torino-Juve 0-0, Bologna-Monza 0-0. In tre partite di anticipo di Serie A si segna un gol. In Premier League ci sono state sei partite e in nessuna di queste si è segnato meno di due gol. Vergognatevi, non voi che giocate, ma voi che credete che questo sia un campionato di livello. Soprattutto voi che per vincere questo campionato imbarazzante vi mettete pure i debiti.